ciao a tutti amici di attuto golf da enrico trentin e richard caruso oggi vi parleremo dell'apice del backswing come potete vedere abbiamo messo un bastone per terra per far vedere più o meno la linea di tiro il bastone quando arriva all'apice del back dovrà essere parallelo alla linea di tiro e parallelo al terreno possiamo avere due tipi di posizione una posizione light off dove il bastone punta a sinistra dell'obiettivo e una posizione across the line dove la posizione della testa del bastone è verso destra e sopra la testa di richard la causa va ricercata nella stacco del bastone ok richard faccio delle domande se stacco il bastone esterno dove potrà andare a finire bastone a lei d'off ok una posizione lei d'off mentre si stacchiamo il bastone più interno a cross a cross the line ok un consiglio ai nostri telespettatori per vedere se il bastone viaggia in piano e se è in piano all'apice del backswing è quello di impugnare due bastoni così uno sopra l'altro ok e di fare dei movimenti indietro fino all'altezza delle spalle ok quando le mani si vengono a trovare di fronte allo sterno il bastone deve puntare sulla linea di tiro cioè sulla palla d'accordo se il bastone invece punta troppo all'esterno di quest'ultimo il bastone andrà a finire la posizione a cross e light off sorry se il bastone invece punterà all'interno della linea di tiro il bastone sarà una posizione across the line d'accordo dunque praticate come sta facendo richard con due bastoni e controllate sempre se il bastone rimane in piano d'accordo rifanno un altro dunque se i vostri amici vi dicono che vedete bastone a cross o avete il bastone light off non cercate di posizionare bastone in piano con le mani ma cercate di staccare il bastone in modo corretto davila con numero è tutto enrico trentina e richard caruso